Depuratore di Rapolo al via ai lavori, verità, annuncio spot, si domanda Federico Solari del Movimento 5 Stelle. Aule fredde sciopero degli studenti, 14 gradi nelle aule, al natta di Ambrosisi di 7 levante, niente lezione. Zoagli rubano un anfaro, un acqua santiera, arrestati un 45enne e un 42enne, la reflutiva ha un valore di 700 euro. Buonasera dal TGT Guglio, Rapolo ha iniziato i lavori per il nuovo depuratore, però il Movimento 5 Stelle è rappresentato in Consiglio Comunale da Federico Solari. Si domanda polemicamente se si tratta di verità o di semplice spot elettorale. Scattano i lavori per il nuovo depuratore di Ronco a Rapallo. Questa mattina l'amministrazione comunale ha incontrato i rappresentanti di IRA in Liguria che hanno confermato l'inizio dell'intervento. Il costo complessivo è stimato in 26 milioni di euro e i lavori dovrebbero durare tre anni. La prima fase sarà concentrata sull'area di Ronco, quindi si passerà alla costruzione delle condotte necessarie per collegare l'impianto alla rete cittadina. Bene, ma se tutto ciò è vero, dov'è la cartellonistica riguardante il progetto e l'infortunistica come previsto dalla legge? Si domanda il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale Federico Solari. Chi deve controllare che tutto sia in regola? L'amministrazione comunale che ruolo ha? Oppure siamo di fronte all'ennesimo annuncio spot? conclude Solari. Cambiamo argomento, ci spassiamo da Rapaolo a Sesto Elevante dove gli studenti del Natta De Ambrosis oggi hanno scioperato per le aule scolastiche troppo fredde. I due rappresentanti di istituto questa mattina alle 7.40 hanno controllato la temperatura delle aule che era di 14 gradi. Gli studenti quindi sono rimasti fuori dalla scuola, sempre i due rappresentanti di istituto, Gabriele Canepa e Nicole Barbagallo, hanno contattato la città metropolitana di Genova per avvisare del disservizio. L'ente ha risposto che una calderina è rotta, per questo metà dei caloriferi del Natta De Ambrosis sono spenti e se non dovesse essere riparato il guasto gli studenti potrebbero rimanere fuori anche per la giornata di domani. Sempre i rappresentanti di istituto vogliono sottolineare come gli studenti non hanno nulla contro il Presidente o la dirigenza del Natta De Ambrosis di Sesto Elevante ma che la loro protesta è indirizzata alla città metropolitana. Passiamo alla cronaca nella tarda mattinata di oggi, i carabinieri hanno sorpreso e bloccato due persone mentre rubavano in un'abitazione sita lungo l'Aurelia a Zoagli. Si tratta di un anfara e di un acqua santiera, sono stati tratti in arresto per furto aggravato in abitazione di concorso un genovese di 45 anni e un 42 anni originario di Torre del Greco, entrambi con pregiudizi di polizia processati per direttissima nella giornata di oggi. La rifiutiva del valore di 700 euro è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. Adesso parliamo del dragaggio della foce dell'Entella, il Comitato Giulemani dal Fiume Entella applaude il Comune di Chiavari. Salvatore Cozzolino, socio fondatore del Comitato Giulemani dal Fiume Entella, accoglie con soddisfazione la decisione della Giunta Comunale di Chiavari di approvare una delibera che chiede alla Regione Liguria di collaborare al dragaggio della foce dell'Entella per eliminare almeno 500 mila metri cubi di materiale depositato. Cozzolino sostiene che questa delibera rappresenta un primo passo nella direzione di favorire l'inversione di tendenza che a fronte della tutela passiva del rischio idraulico fin qui praticata dovrà privilegiare d'ora in poi la prevenzione attiva dal rischio idrogeologico mediante opere preferibilmente non strutturali. Cozzolino invinta quindi il commissario di Lavagna ad adottare un provvedimento dello stesso tenore e la Regione Liguria a contribuire all'iniziativa. Anche Giovanni Melandri, portavoce dello stesso Comitato, condivide l'iniziativa della Giunta di Chiavari sostenuta in particolare dal consigliere Marco Rocca di coinvolgere la Regione nel dragaggio della foce dell'Entella. Melandri ipotizza che la decisione possa essere stata stimolata dalla recente ipotesi regionale di realizzare nell'area dell'Ido il depuratore comprensoriale. Non c'è invece da ralle grassi, dice Melandri, per il perdurante e colpevole silenzio a riguardo degli interventi di ripristino delle sponde del fiume dopo i crolli del novembre 2014 che lasciano scoperto, oltretutto, una parte del collettore fognario sulla sponda lavagnese. Melandri, infine, ribadisce la contrarietà del Comitato in merito al progetto definitivo riguardante l'intero bacino dell'Entella. Nel mese di gennaio dello scorso anno aveva clonato la carta di credito di un trentenne di Cogorno. Non si era però dato a pazze spese, ma aveva preferito utilizzare la carta clonata per una serie di scommesse sul web, il tutto per un importo di circa 7,70 di 70 euro. L'uomo, un 42enne di Roma, è stato ora denunciato dai carabinieri di Lavagna a cui si era rivolto il trentenne di Cogorno. Deve rispondere di indebito utilizzato, utilizzo di carta di credito e frode informatica. Adesso andiamo a Chiavari. Nel fine settimana, come abbiamo già ricordato, ieri torna la fiera di Sant'Antonio. La viabilità sarà ovviamente modificata. Sabato 14, domenica 15 gennaio, torna la tradizionale fiera di Sant'Antonio che quest'anno ospita oltre 500 banchi disposti nelle vie e nelle piazze più centrali di Chiavari. La collocazione dei banchi è quella mai nota tra Via Del Pino, Via Gagliado, Piazza della Torre, Via dei Casaretto, Via Rivarola, Piazza Matteotti, Corso Garibaldi, Via Nino Bixio, Piazza Roma, Corso Dante, Via Tirieste, Piazza Cavour, Tratto Finale di Corso Dante e Viale Casman. Da venerdì, quindi, scatteranno i primi provvedimenti di divieto di sosta. Il sindaco Roberto Levaggio ha firmato un'ordinanza per disciplinare traffico e sosta nei giorni dell'evento. I primi provvedimenti, quindi, che riguardano il senso di marcia in diverse vie, entreranno in vigore già alle 8 di dopodomani. Tra questi, anche il doppio senso di marcia nella carreggiata di Levante di Via Le Casman, nel tratto compreso tra l'incrocio di Via Bado Giannotto e quello con Corso Dante. Nella parte apponente della strada sarà invece vietato transitare e sostare. Dalle 20 dello stesso giorno entreranno poi in vigore altri divieti e limitazioni. Per tutta la durata della fiera in Via Costa Aguta si transiterà a senso unico di marcia, tra Piazza Matteotti a Piazza Verdi. Il pronto soccorso dell'ospedale di Lavagno si trova a fronteggiare l'emergenza influenza. Dal 24 dicembre all'8 gennaio scorso sono stati complessivamente visitati 1.232 pazienti, 189 dei quali sono stati ricoverati. Altri 90 pazienti, prima di poter lasciare pronto soccorso lavagnese, hanno trascorso un periodo di osservazione. Nello stesso periodo dello scorso anno i pazienti visitati erano stati 1.205, dei quali 175 ricoverati e 79 tenuti in osservazione prima delle dimissioni. L'ASL 4 a Chiavarese ha attivato le procedure previste per i casi di iperafflusso in pronto soccorso e quindi ha attivato un'unità di crisi che dispone di 7 posti letto e sospesi di ricoveri di elezione, ad eccezione di quelli correlati a patologie oncologiche e ai interventi di chirurgia ortopedica. Prosegue inoltre la collaborazione tra il pronto soccorso, la residenza sanitaria assistenziale e le cure intermedie. Rateizzazione dell'abbonamento annuale dei treni, polemiche tra partito democratico e Regione Liguria e per quanto riguarda invece i pedaggi autostradali per le pubbliche assistenze, sempre la Regione Liguria vuole trovare una soluzione. Raffaella Paita, copagruppo del Partito Democratico in Regione, sostiene che grazie all'intervento del PD si sta aprendo uno spiraglio sulla rateizzazione dell'abbonamento annuale dei treni. Dopo la nostra lettera dei giorni scorsi a Ferma Paita abbiamo saputo che le ferrovie stanno ragionando sulla possibilità di rateizzazione dell'abbonamento annuale. L'assessore regionale Traspotti Gianni Berrino invece risponde confermando che Regione e Trenitalia stanno valutando la possibilità di rateizzare gli abbonamenti annuali e dice nel caso sarà una vittoria dei pendolari e di questa giunta che ha preso a cuore una problematica disattesa per dieci anni dalle giunte PD. Dai treni alle autostrade. Dal 1 gennaio del 2015 Società Autostrade ha deciso di non concedere più il transito gratuito alle pubbliche assistenze che non fossero in servizio di emergenza. Sul tema in Regione sono state illustrate due interrogazioni, una di Claudio Muzzi di Forza Italia e l'altra di Sergio Rossetti del PD. Muzzi ha sostenuto che il provvedimento colpisce in particolare le pubbliche assistenze del Tiguglio, mentre Rossetti ha ricordato che Società Autostrade ha chiesto anche i costi retorativi del pedaggio dal 2014. L'assessore alla sanità Sogna Viale ha risposto anticipando la volontà della Regione Liguria di aprire un tavolo di confronto con Società Autostrade per affrontare la questione. Non è da escludere, dice Viale, un'ipotesi di chiusura dei contenziosi in corso, anche con una soluzione, una tantum, della quale potrebbe farsi carico la Regione. Soddisfatto, Muzzi garantisce che continuerà a seguire con attenzione l'evolversi della vicenda, mentre Rossetti ribadisce la richiesta alla Regione di sostenere economicamente il pagamento dei pedaggi delle pubbliche assistenze. Il municipio di Santa Margherita e Ligure si trova in zona rossa e non è idoneo ad ospitare il centro operativo comunale. La novità è messa nell'ambito degli studi finalizzati all'aggiornamento del piano di protezione civile. L'amministrazione comunale sanmagheritese ha così deciso di realizzare una struttura adatta allo scopo. Si tratta di un prefabbricato modulare che sarà allestito in due fasi nell'area parcheggio dello stadio Broccadi di via Garibotti. Il primo stralcio prevede l'installazione della sala operativa dei servizi igienici di un locale di servizio. L'intervento è finanziato con un prelievo di 100.000 euro dal fondo di riserva. La protezione civile è stata fin da subito una priorità dell'operato della nostra amministrazione, ha affermato il vice sindaco Emanuele Cozzio. Desideriamo pertanto che le forze di protezione civile possono essere in grado di lavorare al meglio unitamente al personale del comune di Santa Margherita Ligure. Abbiamo interrotto Roberto Levaggi, sindaco di Chiaveri, in un momento in cui si sta lavorando sul PUC, quindi pochi mesi, poche settimane forse per dare un volto alla città in maniera diretta e definitiva. Ma diciamo che il vecchio piano regolatore generale era scaduto nel 2012, questa giunta, questa amministrazione ha acceleramente adottato il nuovo piano urbanistico che ha degli indirizzi ben precisi, quello di salvaguardare il più possibile le coline e di ripristinare, di poter ricostruire sul costruito, cioè su quello che già c'è, quindi con pochissimo consumo di suolo. Questa è la filosofia principale che ci ha anche riconosciuto dalla valutazione ambientale strategica che recentemente la Regione ha dato, esprimendo parere positivo con delle prescrizioni che dovranno essere adottate. Penso che l'iter del piano urbanistico adesso ormai sia abbastanza verso la conclusione, nel senso che le oltre 144 osservazioni sono state esaminate dal Consiglio Comunale alla fine dello scorso anno e adesso aspetteremo una convocazione del Comitato Tecnico Urbanistico che dovrebbe avvenire entro il mese di febbraio per poi marzo-aprile arrivare alla conclusione. Le priorità le avete già raccontate, ce le avete già dette, c'è qualcosa ancora da rivedere? Ci sono alcuni progetti che fanno parte anche della rivalutazione e del rilancio culturale di Chiaveri nel proprio centro urbano che sono proprio qui vicino dove ci troviamo adesso, vicino al Comune, l'Oratorio di Santa Caterina dove si può collegare, previsto dal piano urbanistico, si può collegare Piazza dei Bastioni con Via Sant'Antonio attraverso un vecchio chiostro che esisteva e che era stato erroneamente tamponato negli anni. Poi c'è tutto un ragionamento da fare sul recupero culturale di alcune zone della città e io penso che attraverso il piano urbanistico, i progetti e quello che vuol fare nella valorizzazione dei palazzi storici della città sia già tutto impostato molto bene. Non dimentichiamo che a breve andremo a intervenire sull'arredo del centro urbano insieme al CIV con un progetto ambizioso che darà anche una riqualificazione completa al nostro centro storico. Si parla anche della collina di Preli, della famosa area di proprietà del Torriglia. Che tipo di interventi lì concederete, vengano fatti? Un'altra zona importante per vista dal piano urbanistico è quella del prolungamento della passeggiata mare, tanto per cominciare, che è un'opera pubblica che attraverso la riqualificazione della colonia Fara, di tutta la zona di Preli e della zona sotto le Grazie, dopo l'ex colonia Piaggio e dopo il depuratore, ci permetterà di ottenere un'opera pubblica di fondamentale importanza, una passeggiata mare in arenaria ecocompatibile con l'ambiente che possa arrivare sino all'estremo ponente di Chiavari, cioè verso il comune di Zoali, fin dove è possibile ovviamente, perché poi alla fine c'è ancora una zona abbastanza franosa. Però quindi, ininterrottamente, partendo dalla zona dell'area di Colmato, dalla foce dell'Entella, si può, dal porto turistico, arrivare sino quasi al comune di Zoali con una passeggiata mare. Ritengo che questo sia uno dei lungomari di città turistiche più vasto della Liguria, perché altri posti, senza nulla togliere da altri posti che sono bellissimi, le loro passeggiate mare hanno dimensioni molto più ridotte, seppure di particolare pregio. Quindi questa è una riqualificazione che il piano urbanistico vede, inserito poi nella Collina delle Grazie, dove l'indice che è stato dato dal piano è zero, cioè non è che si possa costruire qualcosa di nuovo o di voluminoso. Attraverso il piano casa previsto dalla legge regionale, si potrà essere una riqualificazione, un leggero aumento dei volumi dei rustici esistenti, che peraltro sono rustici che necessitano di riqualificazione, perché sono veramente ormai in uno stato di totale abbandono. Il Toriglia penso che abbia fatto un'azione così come l'ho potuta esaminare, come l'abbiamo potuta vedere da quello che ci è stato proposto dal Consiglio di Amministrazione, sia stato un contratto buono, nel senso che va a mantenere la collina così com'è e rimarrà per sempre di proprietà del Toriglia. Viene data una concessione ad un privato che, attraverso riqualificazioni, ristrutturazioni, rifacimento dei sentieri, canalizzazione delle acque, rifacimento dei muri a secco, che erano spese enormi per un istituto di riposo come un IPAB come il Toriglia, perché il Toriglia deve spendere soldi per acquistare medicinali, apparecchiature, attrezzature per i propri vecchietti e non può spendere enormi somme per mantenere suolo pubblico, per mantenere un disesto idrogeologico che c'è in atto in tante parti della collina delle Grazie. Quindi ha affittato un privato per 80 mila euro all'anno, incasserà questi soldi e potrà metterli nella gestione del Toriglia, quindi per gli anziani che vi soggiornano e liberarsi di alcune responsabilità che ci sono nella gestione di tutta la collina delle Grazie, ripristinando quei sentieri che servono anche a livello turistico per tutta la zona. A questo privato sono state chieste delle garanzie sul mantenimento di quello che è l'aspetto della collina e la sua tutela? C'è stato descritto il contratto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dagli altri consiglieri. Si sono rivolte ad un ottimo studio legale di Genova, sono fortemente cautelati e anche manlevati, perché se ci fossero frane sulla verovia, sull'ANAS o su altre vie di particolare interesse, la responsabilità civile e penale è del Toriglia. Si sono manlevati, attraverso questo privato penso che abbiano le opportune garanzie che questi lavori siano fatti. Tra l'altro ho una concessione cinquantenale, ma mi è stato detto che nei primi 4-5 anni saranno fatti i più grossi investimenti. Quindi l'aspetto paesistico, secondo lei, verrà protetto, tutelato? Assolutamente sì. Noi abbiamo concesso indice zero, abbiamo tolto tutta quella collina anche dal piano casa per quanto riguarda quei commi, quella parte dell'articolato che riguarda i comuni, quindi l'aumento di volume che c'è è soltanto quello previsto dalla Regione, che può essere un 10-15% soltanto per motivi tecnici, per ristrutturare le case, che è quindi un minimo, e poi vengono riqualificati i sentieri. E le altre periferie? Le altre periferie vengono ricucite in modo ottimale, riteniamo che il proseguimento della pista ciclabile lungo Lentella, la zona di San Pier di Canne e la zona di Ria e Rialto siano state adeguatamente tenute in considerazione per una riqualificazione, tenuto conto che lì il tessuto è parzialmente compromesso dalle edificazioni degli anni 50-60, non è che si possano fare delle complete rivoluzioni, però dagli interventi che vengono ammessi è una ricucitura, una riqualificazione di un'area che spesso negli anni del dopoguerra col boom edilizio sono state un parte, mente, danneggiate sul profilo urbanistico. Per chiudere, rispetto a quello che è il suo mandato, che sta per concludersi, che tipo di città e di situazione, proprio da un punto di vista urbanistico, lei intende lasciare ai chiavaresi? Intanto noi abbiamo avuto il brutto colpo che non dipende da noi in questa mia legislatura della perdita del Tribunale, perdita che è stata voluta da un governo, che a mio avviso è un governo tecnico, che quindi non aveva rapporto con i cittadini, dopo che un edificio nuovo era stato costruito. Nonostante tutto, lì porteremo la Guardia di Finanza, porteremo l'Agenzia delle Entrate che rischiavamo di perdere, almeno molti uffici, la Conservatoria dei Registri e tutti i mobiliari, che anche quella rischiavamo di perdere verso Genova, e tutti i giudici di pace del territorio, da Sestri e Rapallo. Quindi ritorneremo a riempire per uffici pubblici, territoriali, un edificio che era ormai destinato a Tribunale, purtroppo è stato trasferito a Genova. Qui, nonostante questo brutto colpo, continua a lasciare una città di servizi, una città dove l'ambiente è tenuto in elevata considerazione, tant'è vero che dicevamo prima il piano urbanistico, preserva gran parte delle coline e non permette grandi nuove edificazioni, se non una riqualificazione dell'area di Colmata, che è un'area nuova e va riqualificata per portare nuova occupazione, lascia quindi una città di servizi, con un ottimo sistema scolastico che va modernato, una città che ritengo pulita, nel senso che abbiamo cambiato radicalmente il sistema di raccolta, portandola dal 34-35% di raccolta differenziata a 65%, quindi a livello delle medie europee. E questo ritengo che sia un buon risultato. Poi tante altre cose possono essere state, si possono fare, però ritengo che di lasciare una città in perfetto equilibrio economico-finanziario come bilanci, gestita correttamente, in modo trasparente e ritengo che Chiavari possa veramente chiamarsi a tutto tondo, città nel cuore del Tiguglio, città dei servizi, così com'è la sua vera vocazione. Ha voglia di rispondere a qualche polemica? Polemiche ce ne possono sempre essere, mi piace di più rispondere con i fatti, e i fatti che stiamo facendo sono sotto gli occhi di tutti, stiamo ultimando l'impianto sportivo di Caperana, a breve partirà l'appalto per ripristinare tutti gli argini della Entella che sono stati deteriorati dall'ultima lovione del 2014, che non erano rimasti in stand-by per motivi burocratici, adesso abbiamo messo i finanziamenti, facciamo l'appalto adesso a gennaio, partirà il ponte di San Pier di Canne, della Chiesa, che aveva creato problemi durante l'alluvione di due anni fa, e poi il ponte della Castagnola recentemente fatto e gli oltre 3 milioni di euro spesi in difesa dell'ambiente. Io rispondo con queste cose. Bene, non mi resta che lasciare le previsioni metano la giornata di domani alla programmazione di Entella TV. Ricordo che l'informazione locale dalla nostra emittente tornerà alle 12.45, alle 14.15 di domani con il TGT Cuglio Agente, quindi con Marisa Spino, mentre in serata andrà in onda il TGT Cuglio tradizionale alle 19.30 e alle 22.45. Grazie per l'attenzione. A domani. Previsioni per domani, giovedì 12 gennaio. Cielo in prevalenza coperto e possibili deboli piogge, più probabili al mattino sulla costa di Centro Ponente, dal pomeriggio sul Centro Levante, dove in serata si potranno avere precipitazioni localmente moderate. Venti tra deboli e moderati. In serata ingresso di venti sud-occidentali, a partire da Ponente. Mare molto mosso ovunque già dal mattino, in progressivo aumento fino ad agitato, in serata. Umidità su valori alti. Le temperature previste. Sulla costa tra 5 e 9 gradi. Nell'entroterra tra meno 1 e 5 gradi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.